Per il centenario della scomparsa di Agnello Califano, poeta e autore di molte canzoni napoletane come Usurdat Namurato, i comuni di Napoli, Sorrento e Sant'Egidio del Monte Albino promuovono un programma di iniziative in sua memoria. Nato a Sorrento nel 1870, Califano trascorse gli anni dell'adolescenza nella residenza paterna di Sant'Egidio, prima di trasferirsi a Napoli, dove iniziò a comporre i suoi versi interpretati e musicati da diversi artisti. Un grande autore con le sue canzoni ha dato un contributo a fare della canzone classica napoletana, ovviamente una canzone e una musica di versi che si cantano, recitano, con cui ci si emoziona, si gioisce, si parla d'amore, si parla alle proprie innamorate e ai propri innamorati, quindi appunto un grande patrimonio dell'umanità, lui è stato un grande protagonista, soprattutto con Usurdat innamorato in qualche modo come se avesse scritto l'inno della nostra città. Nella Casina Pompeiana, in Villa Comunale, dal 19 al 21 febbraio, è a disposizione un itinerario guidato nell'archivio storico della canzone napoletana, con oltre 100 brani di canzoni scritte da Califano, di cui alcuni molto rari e con tracce musicali che risalgono fino al 1894. Insieme alla RAI, nell'archivio della canzone napoletana, per tre giorni lì alla Casina Pompeiana, trasmetteremo i 100 modi in cui è stato cantato Usurdata innamorata, e quindi spero che tanti nostri cittadini vorranno rendere omaggio a questa personalità artistica, al nostro inno in qualche modo, e quindi spero che siano delle belle iniziative, partecipate, e invito tutti ad essere protagonisti e vivere queste giornate di emozione.